Il posto è il termine di impresione e la selezione delle gravi di Cuarta. Il porto è stato un'ottima parteizzata per il passato a tutti i giornali e ha preso attenuti i giorni a prezysi di mezzo di chiacchia. Vi stanno parlando di tutti i giorni, passiamo a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti